Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo video in compagnia del vostro Regent, oggi siamo qui con un ospite di eccezione che è Frake Ciao a tutti ragazzi E stiamo appunto per provare due nuovi personaggi, io sono rispettivamente col mio Chandelure Ok, io invece questa volta provo Weavile E direi che possiamo iniziare Sì, peccato non si possa usare Shadow Mewtwo, l'ho provato da poco e è bestiale, è una potenza Esatto, ragazzi mi raccomando voi fateci sapere nella zona commenti che Pokémon vorreste Qui su Pokémon Showdown, anzi su Pokémon Tournament, scusate C'è la difficoltà che bisogna un attimino imparare bene il Pokémon che si usa, se no è meglio non giocare Si vengono legnati Però tutto questo, voi fateci sapere in descrizione quel Pokémon che vorreste vedere e noi vedremo di accontentarli Ok Al solito un po' di tensione e poi la voglia di far bene, quindi è difficile soprattutto con un picchiaduro commentare mentre si lotta Sì, esatto Allora io sto usando Chandelure, che è un Pokémon che ha Cos'è questo? Ok Che la vita è interessante praticamente di essere devastante da lontano Sì, sì, sì Aia, aia Eh ma tu sei un pro Ok, no, no, no Ragazzi, né Ion e Freak siamo dei professionisti Siamo ben lontani ma Appunto con l'allenamento vedrete che sapremo fare delle cose fantastiche Dai, dai, dai Ok, no, mi hai preso, mi hai preso Eh, questa volta, questa volta sì No, no, dai, dai Ok No, no No, che io Ah, peccato, ma comunque Cioè, è rimasto tipo con 40 punti vita Pazzesco, bene, bene Sì, io adesso ho avuto un laps Una Diciamo ho avuto un'amnesia temporanea e non vi ricordo più come tirare gli attacchi a distanza Giuro, aspetta Vedete ragazzi che ogni Pokémon ha dei punti di forza Per esempio personaggi come il mio Chandelure hanno bisogno di rimanere alla larga, no? Cioè non vogliono farsi avvicinare Vogliono continuare a spammare attacchi in questa maniera sudola come sto facendo col povero Freak Esatto E quindi rimanerei praticamente molto lontano, no? Però tenendo comunque parcheggiato il culo, no? Senza muoversi troppo, no? Ti sto odiando Ok, finalmente riesco a avvicinarmi Ah, oddio, mi combi? No, no, ok No Non è che sono atterrato Non è che sono atterrato No No, no, dai Oh mio dio Aia, aia, le sto prendendo malissimo Ok Ok, ti ho preso, mi sa che ti shotto Nooo Allora io non capisco mai questa mossa di Chandelure Che cosa vuol dire? Cioè che Non ha senso Che cosa sta significando? Non ha assolutamente senso Che io, va bene Povero, povero Weebye Guardate quanto è triste Voi ragazzi Fateci sapere in descrizione Che Pokémon state provando Qual è quello che vi sta dando soddisfazione E qual è invece Quello che pensate sia Una scioffeca schifosa Che non dovrebbe essere Il Pokémon Showdown Noi oggi abbiamo provato Chandelure e Weeval E devo dire che comunque È molto bello Non so se sei d'accordo con me Freak Che ogni Pokémon Abbia Un suo gameplay tutto suo Cioè nel senso Il tutorial va fatto separatamente Per ogni personaggio Ed è una cosa grandiosa Sì sì Hanno fatto veramente Un ottimo gioco Comunque ragazzi Allora Niente Ho perso anche questa E Non importa Lo risfiderò Mi allenerò Andrò nella stanza Dello spirito e del tempo Livellerò un sacco E risfiderò il Regent Ragazzi Ve lo prometto Ne faremo tante altre in futuro Voi mi raccomando Fateci sapere Nella zona commenti Appunto Che Pokémon Vorreste vedere Provati Io vi lascio Tra l'altro Il link del canale di Freak Che fa caricamenti regolari Di Pokémon Quindi di video Che riguarda il mondo di Pokémon Quindi vi consiglio Di fare un salto Farò lo stesso anche io Ovviamente con te Quindi trovate il suo link In descrizione Passate Passate Non so perché l'ho detto Comunque passate Sul suo canale Mi sono un po' bloccato Non ti preoccupare Noi ragazzi Ci becchiamo alla prossima Voi fateci sapere Che cosa ne pensate Di questo gioco Se l'avete comprato Se non l'avete comprato Perché in questo caso Alla prossima Ciao Ciao a tutti Ciao ragazzi